Buongiorno a tutti! Cosa dite? Rimettiamo il calcio vero al centro di tutto? E io direi che è meglio. Perché questa avvenga, devo fare due cose. La prima è ringraziarvi, la seconda è coinvolgervi, perché parliamo di football e tempo di pillole speciali. E allora vi chiedo, qual è stato secondo voi il calciatore, rivelazione di questa prima fase di campionato tra questi tre nomi? Mattias Sule, Joshua Wirkze e Andrea Colpani. Rispondete al sondaggio e domani trattiamo la vostra scelta. Parliamo di football e la vostra garanzia. Io vi aspetto qui, sempre. Viva il football!